guardo un video di robbie finché non sclero no vedi ma è pieno di gente qui come casa di tuo nonno questi sono tutti i nipoti su sali in macchina dai ma quanti cugini hai scusami non lo so ne ha così tanti che lui è Gino ciao Gino da qua è sparito è sparito è andato davanti no mi hanno fottuto Gino ieri